Ciao ragazzi, quest'oggi c'ho due bombe pazzesche, c'ho due notizie pazzesche ragazzi da dirvi la prima è che Race Beyond Mater, che è un famoso youtuber appassionatissimo di simracing fa delle cose spettacolari, ha una postazione magnifica, ha creato un teaser bellissimo in cui, come vedete qui alle mie spalle, scherza insieme all'intelligenza artificiale iniziando il video che dura 20 minuti, i cui 2 minuti e 50 circa sono dedicate a questo teaser e poi è tutta una, praticamente un gameplay, e in questi 2 minuti e 50 praticamente scherza con l'intelligenza artificiale dove praticamente gli arriva questa valigetta, una safe case pesante circa 12 chili che appoggia sul tavolo e parlando con l'intelligenza artificiale si riesce a capire che gli arriva da Simcube Simcube ragazzi è il marchio proprietario di Granity Device famosissima appunto per le basi, i volanti e l'ultima pedaliera Active Pedal, insomma è un marchio conosciutissimo nel mondo del simracing quindi prendete questa valigetta e disquisendo con l'intelligenza artificiale si capisce che è un progetto segretissimo da parte di Granity Device sul quale stanno lavorando da anni e che lo stesso Rise Behind Metal dice sono sicuro che non saremo delusi e parla della sua frustrazione perché non può aprire e scoprire nulla di questo progetto fino alla data d'embargo del 10 di ottobre quindi ragazzi dobbiamo aspettare 12-13 giorni per sapere quale grande novità Granity Device con il marchio Simcube Simucube ci proporrà non sto nella pelle ragazzi perché non hanno neanche aspettato l'ADAC che è il 18-19-20 di ottobre quindi lo anticipano e quindi probabilmente questa cosa qui che credo di, che penso di aver intuito cosa possa essere però non vi dico nulla perché è solo un'intuizione mia potrebbe essere testata proprio da chi avrà la fortuna di andare a questa fiera quest'anno a Dortmund quindi ragazzi bellissima notizia ma terminerei il video con un'altra bomba che da un lato è un po' così ma dall'altro è bellissima perché vi spiego tutti stavamo aspettando questa famosa data di uscita di Assetto Corsa Evo e finalmente Kunos si è decisa a dare una data uscirà in early access in ritardo di poco gennaio 2025 su Steam ovviamente questa è la data non abbiamo altre informazioni però insomma ragazzi sono tre mesi che sono ormai siamo abituati ad aspettare io pensavo un anno invece il ritardo è solo di un mesetto quindi gennaio 2025 potremo testare il nuovo titolo di Kunos Simulazioni ragazzi erano due belle bombe di notizie spero che vi siano piaciute pollice in su come al solito lasciatevi un commento ditemi che cosa ne pensate cosa pensate che ci sarà in questa safe case Simucube e ovviamente iscrivetevi al canale noi ci vediamo prestissimo da Fabrizio è tutto un abbraccio ciao